Mi hai seguito? No, avevi gli stivali oggi, ma hai parcheggiato nel garage sotterraneo, quindi te li hai rimessi perché dovevi camminare per strada. Ti ho seguito. Non avevamo parlato dell'amicizia e delle sue implicazioni. Sì, ma avevo qualche domanda da farti. Io conosco i tuoi e il tuo fratello. Io ne ho due di fratelli. Non me l'avevi detto? Non era importante. Perché? Perché non è più nella mia vita ormai. Questo è importante. È l'ultimo posto in cui l'ho visto. È stato nove anni fa. E non so nemmeno se è vivo o morto. Grazie a tutti